E' stato appiccato da due ex dipendenti infuriati con gli ex datori di lavoro, un ruogo devastante che lo scorso ottobre ha distrutto un'intera azienda di smaltimento rifiuti a Monselice, nel Padovano, creando anche un allarme ambientale rilevante. Una coppia di cittadini marocchini, Bukhra El Khali, una donna separata e disoccupata, ideatrice della vendetta, e Saeed Rabai, il suo compagno connazionale pure disoccupato, sono stati arrestati dai carabinieri al termine di una laboriosa indagine della procura. L'incendio della NEC, andata a fuoco nel bel mezzo di un'accesa trattativa sindacale per la messa in liquidazione della cooperativa Libera, proprietaria del marchio, ha creato un danno stimato in 3 milioni di euro, la struttura su 3.000 metri quadrati, collassò travolgendo anche i macchinari. Gli arrestati lo hanno appiccato con pellet e diavolina, al telefono li chiamavano Fagioli e Musc, un profumo orientale che alla forma di cubetti accendi fuoco. E nel telefonino avevano un video cimeglio dell'azienda in fiamme e non solo. Gli aspetti erano tanti, ricordatevi che lì c'erano stati mesi e mesi di contrattazioni, di situazioni abbastanza delicate anche sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. Poi è chiaro, è venuto fuori proprio questo aspetto quasi personale, addirittura dagli accertamenti fatti sui telefonini, è venuto fuori questa creazione di questo video, dove si vedeva la ditta che lavorava e poi la ditta che bruciava i vari dirigenti. Sicuramente questo aspetto ha connotato bene, soprattutto da parte del giudice, una motivazione, ripeto, dolosa, molto intensa, questo la dice lunga. GIP ben veramente rappresenta questa intensità del dolo. È chiaro che è stata poi rappresentata da un atto criminogeno gravissimo, addirittura l'incendio di tutta l'azienda che poi è fallita, quindi un danno economico notevole, un danno ecologico sicuramente ancora abbastanza ingente. Non è chiaro se i due arrestati, che hanno anche dei precedenti, un furto aggravato ad un centro commerciale, avessero in mente altre azioni nei confronti degli ex dirigenti della struttura. Nel telefonino della donna c'era anche il video di una bambola gonfiabile in fiamme con la scritta «Ora mi sento meglio», mentre in quello dell'uomo un messaggio in cui sostiene di aver rischiato la vita per lei e in effetti si era ustionato fuggendo dal rogo ed era stato medicato per un flittene ad un piede.